Ciao ragazze, ho fatto un super ordine dal Nailful Professional e adesso lo vado a spacchettare per farvi vedere cosa ho comprato. Ho approfittato di una super offerta che hanno fatto mettendo il 50% su tutti i semi permanenti della Slimline, quindi ne ho fatto un po' di scorta. Andiamo a vedere cosa ho preso. Questo va bello maggio, che in genere mandano sempre, sono dei glitter sui colori dell'argento. Poi ho preso queste Nail Stipes color oro, un pennello 00 perché il mio ha perso tutti i pelucchi e poi scorta di semi permanenti colorati della Slimline, come già vi ho detto. Non vedo l'ora di stenderli tutti. Vado con lo swatch. Grazie. 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 Eccoli senza flash ma con la luce della lampada. E invece qui è una ripresa con il flash per farvi vedere la differenza. Tutti davvero super bellissimi e coprenti. Spero che metteranno presso un'altra promozione come questa. Così ne comprerò altri. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!